Ciao, benvenuto in questa nuova puntata della nostra rubrica C'è una volta, sei pronto? Oggi ancora in compagnia di Dorina e delle sue magiche avventure entreremo in un giardino nel periodo di autunno e incontreremo qualcuno, tieniti forte perché sarà bellissimo. Oggi ti leggerò la zucca di cenerentola. Com'era bello passeggiare in un campo coltivato. Il contadino aveva lasciato dei sentieri da poter percorrere tra un appezzamento e l'altro di terreno. Proprio lungo uno di questi sentieri Dorina stava passeggiando e ammirando le tante belle zucche appoggiate nella terra e circondate da tante belle foglie grandi e larghe. Quello era il periodo migliore per le zucche. L'autunno era la stagione perfetta per far crescere belle zucche grosse dalle forme più disparate. Quel campo coltivato apparteneva ad un bravo contadino che voleva tanto bene alla sua piccola ed educata vicina di casa a quella bambina di nome Dorina, dagli occhi sempre vispi e luminosi. Dorina amava tanto aprire quel cancelletto di legno e inoltrarsi nell'orto del suo vicino. Ogni volta era una sorpresa sempre diversa. L'orto era un po' magico, cambiava continuamente aspetto. In estate era pieno di papaveri, in primavera si sentiva profumo di fior d'arancio, in inverno crescevano quei piccoli ciuffi di broccoletti tanto buoni da cucinare e da e ora in autunno tutto il terreno era ricoperto da enormi foglie da grosse zucche arancioni. Quel giorno d'autunno in particolare Dorina era entrata nell'orto nel tardo pomeriggio dopo aver completato i suoi compiti di scuola. Era quasi buio ma volle comunque andare per poter annusare quel piacevole profumo di terreno umido e soprattutto perché trovava divertentissimo schiacciare le foglie secche e sentire il simpatico rumore, quel croc croc sotto i piedi che la divertiva tanto. Ad un certo punto, proprio mentre saltellava e schiacciava le foglie, iniziò a sentire delle voci. È proprio qui, stai tranquilla, ne troveremo una bella grossa. Poi una voce diversa. Ti prego non correre così, non ce la faremo mai, ormai il ballo sarà per iniziare. Oh come sono sfortunata, oh povera me! Ma per favore devi essere ottimista, sarò pure una fata smemorina, ma sono pur sempre una fata. Per me tutto è possibile, devi solo crederci. Oh povera me, come sono fortunate le mie sorellastre! Ora basta cenerentola, abbi fiducia in me, anche tu avrai la tua carrozza. Dici davvero? Devo solo crederci. D'accordo fata smemorina, voglio crederci. Forza, cerchiamo la zucca più grande che c'è. Oh ma brava che sei finalmente, io sono la fata smemorina e troverò per te la zucca più bella che c'è. No, Dorina non ci poteva credere. Si stavano avvicinando a lei proprio loro, Cenerentola e la fata smemorina. Stavano cercando la zucca da trasformare in carrozza. Ehi, ma chi c'era lì? Chi era mai quel topolino che seguiva Cenerentola? Era Titino, Titino il topolino, quello che l'aveva fatta ballare e volteggiare nella tana dei topolini nel mondo sottoneve. Dorina era libita, stava appoggiata ad una grossa ed enorme zucca a godersi la scena più incredibile di tutta la sua vita. Come era possibile? La fata smemorina e niente meno Cenerentola, davanti ai suoi occhi, a pochi metri da lei. Poi sentì di nuovo parlare la fata smemorina. Ah, eccoci arrivata Cenerentola, guarda questa zucca, è perfetta, grande e abbastanza da poter far funzionare la formula magica BDDB. E così Dorina disse. Ci sono io qui vicino alla zucca, non vorrei che trasformassi anche me. Io ti conosco, tu sei fata smemorina e tu, tu sei Cenerentola. Come sono emozionata. Ho davanti a me la bella Cenerentola. Mi presento, io sono Dorina. Cenerentola le rispose. Ciao bella bambina, hai un nome davvero carino. Cosa ci fai tutta sola in un orto a quest'ora tarda? E Dorina. Cenerentola, devi sapere che mi piace tanto venire qui. Ogni volta c'è qualcosa di nuovo e di magico da scoprire. Ma la fata smemorina l'interruppe. Dorina cara, noi avremmo un po' di fretta. Se già ci conosci, sai benissimo perché siamo qui. E allora forza, aiutaci. Recita con noi la formula magica che fa BDDB BDDB. Devo trasformare questa enorme zucca in una carrozza. E poi, ehi, e Titino, dove sei? Titino, corri qui. Il topolino si era avvicinato alla fata, ma quando aveva visto Dorina iniziò a saltellarle intorno, così felice che quasi non riusciva a fermarsi, ed esclamò. Dorina, 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 Dorina che emozione! La mia cara Dorina, ricordi quando eri minuscola come me e hai ballato con me nel mondo sotto neve? E la fata smemorina. Ma voi mi conoscete molto bene, allora sono sicura che ora la magia funzionerà ancora di più. Se anche tu Dorina credi nella magia, allora la zucca davvero diventerà una carrozza. E il piccolo Titino sarà l'elegantissimo cocchiere che condurrà Cenerentola al gran ballo di corte. E Cenerentola disse, pronunciamo la formula. Bella Dorina, vieni qui accanto a me. Se credi nella magia anche tu devi pronunciare la formula con me. Aiutami! E così Dorina si avvicinò alla bella Cenerentola che però era ancora vestita con un abito strappato. La fata esclamò, eccoci siamo tutti pronti, la zucca è pronta, Titino è pronto, via! Con impegno! Bidi di bodi di bu! Ancora! Bidi di bodi di bu! Magia! Tutti intorno brillavano tante lucciole colorate e tutto sembrava girare velocemente. Improvvisamente la zucca si trasformò e divenne una meravigliosa carrozza. Titino iniziò a piroettare nell'aria e divenne un elegante cocchiere in livrea. Per magia si materializzarono anche i cavalli. Ed infine magia! Cenerentola si trasformò nella ragazza più elegante che si fosse mai vista. Un abito sontuoso color azzurro come il cielo, un diamante al collo preziosissimo e luccicante e ai piedi delle meravigliose scarpette di cristallo. Dorina era estasiata. A bocca aperta ammirava tutto, i suoi occhi brillavano come due stelle. Ancora una volta stava vivendo un'esperienza indimenticabile. La fata invitò Cenerentola a salire in carrozza e le disse, forza Cenerentola il principe ti aspetta, sarei tu la più bella al ballo. E così dicendo la carrozza iniziò a muoversi. Titino si era trasformato in un cocchiere molto attento e i cavalli lo ascoltarono subito non appena diede loro l'ordine di muoversi al trotto. La zucca carrozza parte immediatamente di gran lena. Cenerentola si affacciò dal finestrino e con la sua bella mano guantata salutò Dorina dicendo, ciao Dorina, credi sempre nella magia e tutto sarà possibile, ciao! E Dorina, ciao ciao Cenerentola, è stato un onore per me averti conosciuta, sei bellissima, ciao! Una volta che la carrozza si fu allontanata, anche la fata smemorina salutò Dorina. Ciao bella bambina, io e Cenerentola siamo personaggi delle fiabe, però possiamo apparire ed essere visibili anche agli occhi dei bambini, ma solo di quelli che credono veramente nella magia. Ecco perché oggi ci hai riconosciute, tu ci credi davvero? Brava Dorina, sei proprio una brava bambina, ciao! E agitando la sua bacchetta magica, la simpatica fata smemorina svanì dalla vista della bambina. Tornata a tutti intorno la reale luce di un tardo pomeriggio d'autunno, Dorina si guardò intorno. Tutto era come prima, il profumo del terreno umido e il simpatico crocchiare delle foglie secche sotto i piedi. Aveva forse sognato o davvero aveva incontrato Cenerentola e la fata smemorina? Si guardò intorno per capire, per vedere se c'era qualcosa di diverso, di cambiato. Beh, in effetti qualcosa di diverso c'era. Quell'enorme zucca che prima occupava il terreno, proprio lì vicino ai suoi piedi, non c'era più e al suo posto c'era solo un enorme buco nel terreno umido. Era proprio il segno che provava che lì, in quel punto, fino a poco prima, c'era stata una pesantissima zucca che ora non c'era più. La magia, la magia l'aveva ancora coinvolta in un'esperienza unica e indimenticabile. Ma ormai era ora di tornare a casa. La sua passeggiata era finita. Doveva tornare a casa perché doveva fare una cosa molto importante. Entrata dentro casa, si diresse velocemente in camera sua e salita in piedi sulla sedia della sua scrivania, prese dallo scaffale più alto della libreria un libro che aveva letto già tante volte e il cui titolo era Cenerentola. Lo aprì, lo sfogliò cercando la pagina illustrata in cui era raffigurata la zucca e la sua trasformazione in carrozza. La trovò. Trovò quell'illustrazione, scese dalla sedia e si stese sul pavimento per meglio osservare con attenzione quella pagina. In basso a destra, in primo piano, c'era un topolino. Che gioia sapere che quel topolino era Titino! Al centro della pagina c'era Cenerentola. In basso a sinistra c'era la fata smemorina con la bacchetta pronta per compiere la magia e in alto, posta in secondo piano, c'era l'enorme zucca. E poi ebbe la conferma che la sua piccola grande avventura nell'orto era davvero avvenuta. In quell'illustrazione, dietro la zucca, si vedeva spuntare di lato un triangolino di stoffa color verde, come di un cappottino verde. Eh già, la sua vita era troppo legata alla magia. Evviva Dorina, sei proprio una brava bambina! Poi, d'improvviso, dalla cucina arrivò la voce della mamma. Dorina, sei tornata e hai lasciato qui sulla sedia il tuo cappottino verde, vieni a metterlo a posto per favore. Eh, la magia! Bene, oggi abbiamo raccontato una favola in cui compare Dorina, ma in cui compaiono anche dei personaggi che tu conosci benissimo, Cenerentola e la fata smemorina. Però se avrai notato, nella favola viene nominato anche un topolino che si chiama Titino e viene accennato un mondo, il cosiddetto mondo sotto neve. Beh, se sei curioso, io ho parlato di questo mondo sotto neve e ho raccontato di esso in un'altra favola. Vuoi sapere qualcosa? Bene, scrivemelo qui sotto il video. Vuoi sapere cosa è il mondo sotto neve? Te lo spiegherò! Fai commentare ai tuoi genitori e ti spiegherò cosa è il mondo sotto neve. Adesso ti saluto e alla prossima puntata. Ciao!